Ti spiego brevemente come aprire un veloce sito con l'applicazione Sites che trovi tra le applicazioni della tua piattaforma. Puoi cominciare come al solito dalla tua classe, sui nove pallini in alto a destra. Questa è l'icona che ti interessa. Clicchi. Per ora puoi lasciare stare la galleria di modelli perché per il lavoro che devi fare non c'è un modello che ti possa aiutare e siccome è magari la prima volta che usi questo strumento potrebbe confonderti le idee anziché aiutarti. Parti da vuoto. Cliccando sopra si apre una pagina assolutamente da comporre. Io ti faccio vedere adesso quelle che sono le caratteristiche principali. Quindi è evidente che poi tutto il resto lo scoprirai provando, andando a cercare, facendo degli esperimenti e vedendo anche a seconda del risultato qual è quello che ti piace di più. La prima pagina ti chiede di inserire gli elementi importanti. Diciamo che qui, nel nostro caso, potresti scrivere educazione civica. Questo è il titolo del sito, della tua pagina. Poi le pagine potranno essere una, due, tre, ma questo è il titolo principale che puoi riportare qui. Basta che tu clicchi, hai visto, sulla barra e automaticamente viene riportato il nome che tu hai scelto per il sito. Qui invece dovrai inserire il titolo della pagina. Questo lo scegli tu a seconda dell'organizzazione che poi intenderai fare. Come si fa? Si evidenzia quello che c'è già scritto e poi si scrive. Ovviamente vale per questa scritta quello che accade per tutte le scritte di tutte le applicazioni. Vedi che qui in alto è comparsa una barra. Qui ti mette il tipo di carattere che vuoi usare. Qui ti mette invece il font. Puoi cambiarlo a seconda di quello che ti piace di più. Basta che lo evidenzi e poi gli dici voglio questo. Vedi che cambia. Oppure voglio questo. Puoi anche scegliere all'interno di uno stile. Ecco, va bene questo. Ok, queste sono le dimensioni. Vedi, può essere piccolissimo. Oppure, come abbiamo visto prima, più grande. E qui grassetto, corsivo, sottolineato. Qua puoi scegliere il colore del testo. Vedi? E qui se centrarlo, se allinearlo da una parte o dall'altra. Ricordati che tutte le volte che vedi tre pallini, significa che ci sono altri strumenti che in una prima occhiata qua non si vedono. Io vado a cliccare ed effettivamente qua mi dice quanto può essere l'interlinea, se devo rientrare nel testo, se devo barrare un testo o se devo cancellare la formattazione. Diciamo che possono bastarti quelle della prima barra. Se quello che è scritto non ti soddisfa, in ogni cosa che inserirai compare sempre il simbolo del cestino e puoi evidenziare quello che non ti piace, cliccare rimuovi e verrà cancellato. Per quanto riguarda invece la parte dietro il titolo, cioè l'intestazione, puoi cambiare l'immagine in due modi. Allora, puoi selezionare una delle immagini che ti vengono già date dal computer. Non sono tantissime, ok? Ecco, ad esempio io voglio questa, basta che clicco, si seleziona, vedi compare un flag, io do l'ok, su seleziona e qua cambia. Vedi che la colorazione dell'immagine è cambiata da sola, io non ho fatto nulla. Perché? Perché questo sito, come tutti i siti web, automaticamente regolano la leggibilità. Ovviamente a questo punto io potrei anche decidere che se mi piace questo sfondo, posso tornare sul titolo e gli dico però magari mettiamo questo colore, che così si vede un pochino di più. stai molto attento a questi particolari, perché il sito deve essere qualcosa che io apro, leggo e leggo con piacere. Se le scritte faccio fatica a vederle, faccio fatica a riconoscerle, mi passa la voglia di leggere quello che tu hai scritto. Oppure posso decidere di caricare un'immagine. Cosa significa questo? Significa che io magari ho già scelto un'immagine che c'è sul mio computer, decido di mettere quella perché mi piace in modo particolare, e allora invece che scegliere selezione immagine, scelgo carica. E poi vado a prenderla dal mio computer. Se ho cambiato idea, ripristina mi fa tornare l'immagine di partenza. Poi posso decidere anche quanto farla grande questa intestazione. Anche qui dipende un po' da quello che tu decidi di organizzare in questo sito. In pratica tu hai la possibilità di mettere solo il titolo. Ok. Puoi tenere il banner. Questo qua si chiama banner. Puoi farlo diventare più grande e quindi fargli occupare più spazio. o puoi decidere che questa prima pagina diventerà la copertina del tuo sito. Per vedere l'effetto che questo avrà una volta che tu hai terminato di lavorare, perché questa ovviamente è una pagina di lavoro, infatti tu hai qui di fianco la colonna che ti permette di lavorare, che poi andremo a vedere che cosa ti permette di fare. Ma quando tu pubblichi o comunque fai vedere il tuo sito, gli altri non vedono questo. Sarebbe brutto. Come fai allora per vedere qual è l'effetto finale di quello che hai scelto? Devi andare qui in alto, dove c'è questo simbolino, cliccare questa icona che significa anteprima. Ti si apre la pagina che in realtà viene visualizzata dagli altri. attenzione, questo è quello che tu vedi se scegli la visualizzazione da computer. Vedi che qui hai delle scelte? Questo è lo schermo grande del computer. Se invece io aprissi questo sito su un tablet, questo è quello che vedrei. Ma io posso anche aprirlo dal telefono. E questo è quello che è l'effetto che sarebbe aperto da un telefono. Torniamo allo schermo grande. Siccome abbiamo scelto copertina, in pratica chi apre il mio sito vedrà soltanto il titolo del mio sito e l'immagine che io ho scelto. Torniamo alla nostra pagina di lavoro. Se decido di lasciarlo così, devo però poi aprire una seconda pagina in cui mettere il materiale che mi serve. Come faccio? Pagine. Vedi che ce n'è solo una finora. L'home page. Cioè la prima che hai creato. Allora vado nella crocetta, qui in basso, e gli dico nuova pagina. La nuova pagina si intitolerà argomento 1. Ovviamente io scrivo argomento 1 perché? Perché poi starà a te decidere quale titolo dare alla tua pagina. Una volta scelto il titolo, gli do l'ok. Vedi che è cambiato. Non siamo più nell'home page, ma siamo nella pagina argomento 1. E siccome noi l'abbiamo chiamata argomento 1, argomento 1 compare nel titolo della pagina. Ora, non possiamo più tenere così però, perché se noi teniamo così abbiamo un'altra copertina e non riusciamo a scrivere niente. Quindi cambiamo il tipo di intestazione. Torno qui e gli dico mettimi un banner più piccolo. Benissimo. Non è necessario che io tenga la stessa identica immagine che ho tenuto per la copertina. Dipenderà un po' dal mio argomento. Quindi io potrei decidere che per l'argomento 2 vado a selezionare ecco, questa. Hai capito, no? Ormai basta entrare, cliccare e poi confermare la selezione. ed ecco che si è sistemato l'impaginazione. Il titolo è rimasto uguale, il titolo del sito, mentre è cambiato il titolo della pagina. Adesso bisogna inserire i materiali. Per inserire i materiali io devo tornare nella pagina inserisci. La terza pagina della colonna di lavoro riguarda i temi. Qua ti vengono già dati dei template pronti. Noi stiamo lavorando nel template semplice. Vediamo che cosa succede se cambio template. Allora, quello che ho scelto io, cioè l'immagine di sfondo e il titolo, rimangono uguali. Però viene preso lo stile che ho scelto. In questo caso, uno stile che comprende un titolo con una linea sotto. All'inizio lui mi dà un colore definito che io però potrei anche cambiare. In che modo? Scegliendo un altro tra quelli che ci sono qui. Facciamo una prova. Scelgo il verde. Vedi che è cambiato il colore della linea. Oppure addirittura andando a decidere io quale colore voglio inserire. Se io vado con la manina dove c'è il bollino e trascino posso anche all'interno di questa colorazione vedi che è cambiata la sfumatura dare una sfumatura diversa. La stessa cosa mi capita con le altre tipologie. Vedi? Questo si chiama liscio e ha una linea intera qui sotto. Anche qua io posso decidere di cambiare colore. Questo però fa parte di quello che puoi scoprire tu da solo. fai degli esperimenti vedi quello che ti piace di più. Benissimo. Adesso andiamo nel contenuto. Quindi abbiamo visto quello che puoi scegliere abbiamo visto quello che puoi cambiare abbiamo visto come impostare le nostre pagine troverai sempre qui poi man mano l'elenco delle pagine se deciderai di inserire delle altre pagine. Cosa posso inserire qui? Allora io posso inserire fondamentalmente del testo mi si apre una barra sempre con i soliti comandi che abbiamo visto prima anzi qua ce n'è un po' di più perché è una funzione testo ad esempio c'è la possibilità di inserire un elenco numerato o un elenco puntato qua ci sono i soliti tre puntini ok e qui io posso scegliere la grandezza del mio testo allora io potrei decidere che qui inserisco che ne so scrivo la motivazione ok benissimo se non mi piace questo stile lo cambio però attenzione questo stile vedi è uguale a quello che abbiamo scelto per il titolo ora nulla mi impedisce di cambiarlo perché basta che io vada qua però non cambiare troppi stili all'interno di una pagina perché poi alla lunga non fa un bel effetto piuttosto scegli ne uno che ti piaccia e poi utilizza quello per tutta la pagina io qua posso scrivere quello che voglio posso cambiare il colore insomma tutto quello che posso fare con i testi posso inserire un'immagine per inserire un'immagine utilizzo lo stesso sistema di prima se io l'immagine l'ho già cercata e l'ho già salvata sul mio computer cliccherò carica se invece voglio andare a selezionarla ecco fatto che io posso sceglierla dal mio drive posso andare a cercarla se ho già un indirizzo del web che corrisponde a quella immagine o posso fare una ricerca con google se faccio una ricerca con google all'interno di questa piattaforma mi vengono date già delle immagini con la licenza d'uso quindi io sono abbastanza tranquilla che posso tranquillamente appunto usarla perché non violo nessun copyright nessun diritto d'autore allora diciamo che io voglio scegliere questa immagine che è un'immagine che ho fatto io quindi non ho bisogno di chiedere permesso a nessuno la seleziono clicco inserisci e lui mi inserisce l'immagine e compare l'immagine già selezionata con già gli strumenti che posso utilizzare tutte le volte che vedi comparire queste si chiamano manigliette significa che io posso ingrandirla rimpicciolirla posso tagliarne un pezzo perché magari voglio solo un particolare basta che poi clicco fuori vedi mi ha ritagliato il particolare posso annullare il ritaglio perché una volta che l'ho ritagliata mi sono accorta che invece questo pezzo era importantissimo posso buttarla via perché ho cambiato idea oppure aprendo sempre i tre pallini posso decidere di sostituirla con un'altra che mi piace di più posso aggiungere una didascalia la didascalia può servirmi o a indicare di chi è la foto che io ho preso se non avevo il permesso di utilizzo oppure posso semplicemente spiegare che cos'è in questo caso io ho aggiunto il luogo di dove ho preso questa immagine ero alla biblioteca Sormani e ho chiesto il permesso di poter fotografare alcuni libri molto antichi bene posso anche lavorare sullo sfondo sia sullo sfondo della mia casella di testo basta che io clicchi qua vedete viene evidenziato allora posso decidere di spostare la mia casella di testo posso decidere di dare uno sfondo colorato perché così si vede di più e lo sfondo colorato che mi viene offerto sarà dello stesso colore di quello che io ho scelto per nel mio template nella mia struttura posso anche decidere di buttarla via questa parte perché non mi serve più ok oppure posso decidere che come sfondo di questa scritta metto un'altra immagine la stessa cosa la posso fare su tutte le altre sezioni mi dà sempre la stessa possibilità quindi abbiamo visto la casella di testo abbiamo visto le immagini posso caricare del materiale andandolo a prendere direttamente dal mio drive quindi se tu hai del materiale sul tuo drive puoi andare direttamente a prenderlo senza uscire dal dal sito ammettiamo che io voglia mettere delle immagini e del testo dove c'è scritto layout io posso scegliere una sezione queste si chiamano sezioni allora queste due questa e questa le abbiamo costruite noi dal nulla ma io posso prendere una sezione già organizzata ad esempio scelgo questa qui ecco vedi lui mi crea una sezione dove io ho già lo spazio per caricare un'immagine posso caricarla dal mio computer posso caricarla da drive posso selezionare un'immagine ecco inserisci e lui mi metterà l'immagine ok sotto c'è già lo spazio per il testo ok e qui posso scrivere la spiegazione la spiegazione in automatico vedi lui mette scritto un po' più grande perché è una intestazione sotto invece un testo normale perché è la spiegazione la stessa cosa posso fare di fianco e posso farla con qualunque di queste impostazioni che mi vengono già date anche qui puoi sperimentare quello che quello che preferisci ma io qui sotto posso inserire tante altre cose che puoi sperimentare da solo allora carosello d'immagine significa che io carico più di un'immagine ad esempio vado a prendere queste qua io potrei decidere di selezionarne quattro vedi che qua ti compare la scritta che ti avvisa che ne hai selezionate quattro gli dico inseriscile tutte quattro di uno due tre e quattro inserisci e adesso vediamo cosa succede succede che qui sotto ci sono i pallini che ti danno la possibilità di proseguire con le immagini che hai caricato facciamo una prova ormai abbiamo capito anzi facciamo così diciamogli anteprima questo è quello che si vede una volta che decidi di pubblicare vedi questo è un carosello di immagini ecco io mi metto qua sfoglio e si vedono ovviamente noi ne abbiamo messe quattro e quindi quattro si vedono le immagini che io ho caricato di fianco come per tutto il resto posso decidere di inserire una casella di testo che ecco qua allora lui me la mette qua io vado dove ci sono vedi questi questi puntini quando il cursore diventa una crocetta io sposto tenendo cliccato la casella di testo mi si mette di fianco magari decido che rimpicciolisco un pochino ecco e qui posso mettere la spiegazione ecco fatto in questa sezione io avrò il carosello delle immagini con la spiegazione di fianco ma posso inserire tante altre cose posso inserire un filmato da youtube posso inserire una mappa posso inserire un documento una presentazione che ho già preparato io dei grafici che ho creato allora questo è tutto quello che puoi fare e molto di più ricapitolando scegli uno stile un titolo ma soprattutto un'organizzazione del tuo sito progetta la prima comincia a lavorarci è sempre possibile fare dei cambiamenti quando hai terminato il lavoro hai controllato guardando nell'anteprima quello che succede pubblicando il sito anche per controllare che funzioni tutto bene torni nella tua pagina di lavoro nella home page vai sul tasto pubblica qua ti viene dato il titolo del tuo sito noi però non vogliamo farlo vedere a tutto l'istituto quindi andiamo su gestisci bene aggiungi persone e gruppi aggiungi solo l'indirizzo della tua insegnante poi clicca invia alla tua insegnante arriverà una notifica se vuoi puoi anche scrivere qualcosa benissimo invia e poi pubblica la tua insegnante riceverà una notifica vedi persona aggiunta e potrà vedere il tuo sito buon lavoro